Chi l'avrebbe mai detto che Carlo Ancelotti, nuovo CT della Nazionale di Calcio del Brasile, avrebbe avuto come avversario niente di meno che il Presidente della Repubblica Lula? Il capo dello Stato carioca la tocca piano. Ancelotti mi piace, ma non è mai stato l'allenatore dell'Italia. Perché non risolve il problema dell'Italia che non ha partecipato agli ultimi mondiali? Lula difende l'attuale CT provvisorio, sono un tifoso di Diniz. È molto facile guidare una squadra in Europa con 11 giocatori selezionati. La cosa difficile è venire qui e guidare il Corinthians. Grazie per la visione!